Signor Snow, dopo tutto quello che ha visto là fuori nel mondo, mi dica. A che cosa servono gli Hunger Games? Gli Hunger Games servono a punire i distretti. Quei tributi non hanno scelta. Il vostro ruolo è trasformare questo gioco di sopravvivenza in uno spettacolo. Siamo in diretta. Sorridete. Per questo abbiamo i denti. Immagina se quello estratto fosse il tuo nome. Vorrei sapere che qualcuno tiene ancora a me. Che valgo ancora qualcosa. Benvenuta a Capitol City. Tu non dovresti essere qui. Non dovrei, ma sono il tuo mentore. Un ribelle. Ti porterò via da qui. Vuoi proteggere le persone? Allora devi accettare gli esseri umani per quello che sono. Assassini! E ciò che serve per controllarli. Vediamo come usi il famoso fascino degli Snow. Sei un brav'uomo, Coriolanus Snow. Ho visto cosa fa la guerra alle persone. Senti il terrore di diventare preda? E quanto in fretta diventiamo predatori. Voglio che i miei nemici vedano un arcobaleno di distruzione. E inghiattire il mondo. Siete dei mostri! Tutti quanti! Buona fortuna con quel povero osignolo. Lei dov'è? È un mistero. E i misteri possono rendere le persone pazze. Signor Snow, glielo chiederò un'ultima volta. A cosa servono gli Hunger Games? Sono le cose che amiamo di più a distruggerci.